Bentrovati e buon anno scolastico a tutti. Vi presento quest'oggi, vi rivolgo a tutti, ma in particolare al mondo della scuola, studenti, colleghi, genitori, eccetera. Vi propongo una conferenza di Rudolf Steiner, la prima di un ciclo di cinque, intitolata «L'educazione che ci rende artisti». Il tema, come non mi stancherò mai di sottolineare, è di estrema attualità e, malgrado il secolo di distanza e l'eloquio di Steiner, tradotto dal tedesco, come sapete, per i suoi contenuti e suggerimenti, parrebbe essere stata pronunziata ieri l'altro. A seguire, come nostra consuetudine, vi proporrò una breve analisi del testo e qualche nota di commento per puntualizzare meglio il pensiero di Steiner. Buon ascolto. Stoccarda, 11 ottobre 1922 Miei cari amici, da quanto dicevo ieri sulla trasformazione dell'anima umana nel corso dell'evoluzione storica, si vede che oggi l'uomo si rapporta all'altro in maniera diversa da come avveniva, per esempio, nell'anno 333, di cui abbiamo parlato ieri. Suppongo che siate al corrente dell'articolazione dell'essere umano di cui parla la conoscenza scientifico-spirituale. Sapete che, per quanto riguarda l'anima, è necessario distinguere fra ciò che nella natura umana è stato particolarmente vivace e attivo fino al XV secolo, cioè la cosiddetta anima razionale o affettiva, e l'anima cosciente, che da quell'epoca in poi è particolarmente attiva in coloro che si evolvono al passo delle conquiste culturali raggiunte dall'umanità. Il fatto che io chiami una determinata attività dell'anima umana, anima razionale o affettiva, non intende dire che la ragione, così come la conosciamo oggi, rappresenti una caratteristica particolare di questo tipo di anima. E soprattutto nei greci che vediamo sviluppata l'anima razionale o affettiva, e presso di loro la ragione non corrisponde affatto all'intellettualismo del giorno d'oggi. Da quanto esposto ieri, potrete dedurre come stanno le cose. Per i greci i concetti e le idee erano qualcosa che proveniva dallo spirito. La ragione non aveva quelle caratteristiche di freddezza, di aridità, che ha oggi per noi in quanto prodotto elaborato personalmente. L'intellettualismo è qualcosa che è sorto solo con lo sviluppo particolare dell'anima cosciente. Ci si fa un concetto dell'anima razionale o affettiva solo calandosi pienamente nell'animo di un greco. Allora si capisce la differenza fra il rapporto col mondo che aveva il greco e quello che abbiamo attualmente noi. Ma alcune delle cose che verranno prese in considerazione ci saranno più chiare in base a quanto verrà detto oggi. Ho voluto dirvi queste parole introduttive solo per farvi capire che nei secoli precedenti all'epoca moderna, vale a dire fino al quindicesimo secolo, gli uomini si incontravano in maniera tale per cui l'uno parlava all'altro, muovendo dall'anima affettiva o razionale, e dalla stessa anima accoglieva ciò che l'altro gli diceva. Oggi ci troviamo di fronte all'anima cosciente. Che le cose stanno così, però, è diventato chiaro all'uomo in cammino solo nel periodo a cavallo fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. La trasformazione è avvenuta attraverso le circostanze che vi ho già descritto, ma così i problemi della vita si presentano agli uomini in un modo completamente nuovo. E oggi certe questioni vanno osservate in maniera nuova, altrimenti non è possibile l'incontro fra anima cosciente e anima cosciente, il che per l'uomo d'oggi significa fra uomo e uomo. E nella nostra epoca risentiamo proprio del fatto di non riuscire a individuare questo raccordo fra uomo e uomo. Dobbiamo soprattutto porre certe domande in modo nuovo, così che la nostra formulazione possa in un primo momento apparire grottesca, pur non essendolo affatto. Cari amici, mettiamo che un bambino di tre anni non abbia voglia di aspettare fino ai sette anni per la seconda dentizione e si dica, mi annoia dover attendere ancora quattro anni prima di cambiare i denti, voglio avere subito quelli permanenti. Potrei citare altri esempi che forse vi sembrerebbero ancor più strani, ma per ora vi basti questo. Una cosa simile non è possibile, lo sviluppo naturale soggiace a determinate condizioni e una delle leggi dell'evoluzione naturale, che oggi sono pochissimi ad intuire, è che in realtà solo a partire da un determinato momento della propria vita si diventa capaci di capire qualcosa dei inissi della vita, di quelle cose che l'uomo deve capire e che non si limitano alle informazioni ovvie sulle cose esteriori. Naturalmente si può sapere già a nove anni che l'uomo ha dieci dita e roba del genere, ma prima dell'età compresa fra i 18 e i 19 anni non è possibile capire cose per le quali ci vuole una capacità di giudizio nel pensiero attivo. Proprio come non è possibile cambiare i denti prima dei sette anni, così prima dei 18 è impossibile capire qualcosa, nel senso vero e proprio della parola. Prima dei 18 anni è assolutamente impossibile capire a fondo ciò che va al di là del proprio naso, ciò per cui è necessaria una capacità di giudizio attiva. Prima di allora si può aver sentito dire qualcosa, crederci per autorità, ma non se ne può capire in fondo nulla. Prima di allora non si può sviluppare quell'attività interiore dell'anima indispensabile per dire di questo o quello so qualcosa, capisco qualcosa che va al di là di quanto si può percepire con gli occhi e le orecchie. Al giorno d'oggi non si parla molto di queste cose, che tuttavia sono di importanza vitale, ma perché possa affermarsi una vera cultura, occorre parlare nuovamente di queste cose e trattarle in maniera adeguata. E qual è la conseguenza del fatto che prima dei 18 anni non si può capire niente a fondo? Ne veriva che prima dei 18 anni l'essere umano deve dipendere da quelli più vecchi di lui, proprio come il neonato, dipende dalla madre. È la stessa cosa. Da questo consegue qualcosa di estremamente importante per il rapporto che intercorre fra gli educatori, gli insegnanti e i giovani. Se non si tiene conto di questo, il rapporto è semplicemente sbagliato. Solo che oggi non ci si rende conto che le cose stanno effettivamente così, ma proprio in ambito pedagogico si agisce in senso opposto. Ma non sempre è andata in questo modo. Se risaliamo ai tempi anteriori al primo terzo del Quattrocento, vediamo che in realtà non ci sarebbe potuto essere qualcosa di simile al movimento giovanile odierno. E comunque allora non sarebbe stato possibile un movimento giovanile nella forma attuale, a cui accordare il diritto di esistere. E se ci si chiede come mai non sarebbe potuto esistere, allora bisogna prendere in esame le condizioni particolarmente significative che c'erano per i giovani che frequentavano le scuole conventuali per prepararsi alla vita. Possiamo anche prendere in considerazione le condizioni che esistevano per i giovani che venivano preparati all'artigianato. Non vi troveremmo niente di diverso, bensì le stesse identiche cose. A quei tempi era assolutamente fuori discussione che qualcuno venisse educato ad un sapere prima dei 18 anni. Alla gente l'affermazione che si possa educare ad una conoscenza una persona prima di quell'età sarebbe sembrata semplicemente assurda. Le persone anziane di quei tempi, soprattutto quando volevano essere educatori o insegnanti, sapevano bene che i giovani non possono essere educati al sapere. Bisogna riuscire a educare questa gioventù a credere in ciò che l'adulto ritiene vero in base alle proprie conoscenze e l'educare la gioventù alla fede, alla fiducia, era allora qualcosa di sacro. Oggi questi rapporti sono completamente rovesciati, poiché rispetto allo spirituale si pretende dagli adulti quello che un tempo veniva richiesto solo ai giovani, cioè la fede. Allora il concetto di fede serviva solo ai giovani, ma veniva visto come qualcosa di sacro. Ci si sarebbero improverati di venir meno al proprio dovere più sacro come educatori, se non si fosse riusciti a far sì che i giovani credessero a un adulto per via della sua freschezza e della forza di persuasione del singolo uomo, se non si fosse riusciti a comunicargli la verità in quel modo. Questa sfumatura d'animo era presente in ogni tipo di educazione, in ogni insegnamento. Oggi l'educazione di quei tempi può anche sembrarci poco simpatica, dato che allora gli uomini erano suddivisi in classi e stratificazioni sociali varie. Ma, prescindendo da questo, vediamo che si ribadiva la necessità che i giovani potessero credere a qualcuno. Questo però implicava anche che gli adulti si dicevano dobbiamo guadagnarci il diritto di essere creduti dai giovani. Ci si doveva guadagnare il diritto di venir presi sul serio dai giovani. Qual è il presupposto per goderne la fiducia? Non si pensava che i giovani dovessero credere a qualcuno solo perché è adulto o perché ha in mano un diploma. Certo, anche allora diplomi e certificati avevano una certa importanza, ma solo a livello esteriore. Guardiamo un po' la situazione dei giovani nelle scuole conventuali, che prima del XV secolo erano gli unici istituti di istruzione. A quell'epoca non si usava a trasmettere un sapere. Evitando di trasmettere subito delle conoscenze, ci si voleva guadagnare il diritto di essere presi sul serio. Oggi abbiamo difficoltà a farci un'idea del significato della frase «non si tratta affatto di trasmettere ai giovani delle conoscenze». Ma a quei tempi era quasi altrettanto ovvio mostrare ai giovani ciò che si è capaci di fare prima di trasmettere loro qualsiasi sapere. Era solo a partire da una certa età che si comunicava ai giovani il proprio sapere, mentre prima si mostrava loro ciò che si è capaci di fare. Per questo, in un primo tempo, l'insegnamento era costituito dalla triade, il trivio, di grammatica, dialettica e retorica. Non erano scienze quelle. È solo da poco che la grammatica si è trasformata in quella orribile pseudoscienza che conosciamo oggi. A quei tempi la grammatica era l'arte di intessere pensieri e parole. La lezione di grammatica era, in un certo senso, un'altalena artistica e a maggior ragione lo erano la dialettica e la retorica. Tutto era fatto per accostarsi ai giovani di modo che vedessero che si sa fare qualcosa, che si è capaci di parlare e di pensare con arte così da far sprigionare bellezza nel discorso. La grammatica, la dialettica e la retorica miravano a far sorgere delle capacità e precisamente imitando la destrezza del maestro. La lezione di oggi, fatta in base a supporti didattici, viene separata completamente dalla personalità del maestro. Inventiamo tutti i marchigegni possibili, comprese quelle orribili calcolatrici, per rendere la lezione il più impersonale possibile. Si fa di tutto per togliere all'insegnamento l'elemento personale, ma ciò non è possibile e tutti questi espedienti fanno sì che emergano i lati peggiori degli educatori. Costoro non possono esplicare il lato bello della loro personalità se l'aula è ingombra di aggeggi che mirano alla cosiddetta oggettività. Un requisito indispensabile dell'educatore di allora era che sapesse mostrare ai giovani ciò di cui è capace in quanto essere umano, nel senso più elevato della parola. Il modo di padroneggiare la lingua e i pensieri e la capacità di comunicarli mirando alla bellezza del parlare. Solo mostrando ai giovani quello che si sa fare ci si guadagna il diritto di educarli gradualmente anche alle cognizioni di tipo più tecnico, cioè all'aritmetica, alla geometria, all'astronomia e alla musica, il famoso quadrivio. La musica era allora intesa come tessuto armonico e melodico del mondo intero. Partendo dalla grammatica, dalla dialettica e dalla retorica, era possibile infondere anche nell'aritmetica, nella geometria, nell'astronomia e nella musica tanta arte quanto se ne era assimilata fin dall'inizio. Vedete, cari amici, tutto questo è svanito col sorgere dell'intellettualismo. Ci resta ben poco di ciò che sgorgava in quel modo da un'attività artistica. Come tutti sappiamo c'è tuttora un diploma di laurea col titolo di dottore in filosofia e nelle sette arti liberali, ma sappiamo anche come stanno le cose con queste sette arti liberali. E dal punto di vista storico il famoso Curzius, per fare un esempio, un personaggio straordinario che ha insegnato a Berlino, aveva un diploma decisamente anomalo. Per quale disciplina aveva effettivamente l'abilitazione all'insegnamento? Pensate che l'abbia avuta per la storia dell'arte, e invece no, aveva l'incarico di insegnare arte oratoria e retorica. Ma a quei tempi non c'era più quella disciplina. Era professore di eloquenza e pur di fare qualcosa insegnava storia dell'arte, tra l'altro in maniera eccellente. Già ai tempi di Curzius sarebbe sembrato strano avere l'eloquenza come materia di insegnamento, ma l'eloquenza, la retorica, era un tempo una materia fondamentale per i giovani. Era così che l'educazione veniva permeata dall'elemento artistico. Il vivere nell'elemento artistico dipendeva dal modo di essere degli uomini, per cui allora l'anima razionale o affettiva si trovava di fronte all'anima razionale o affettiva dell'altro. Oggi ancora non viene posta la domanda che riguarda il nuovo modo di essere degli uomini, che chiede come si fa quando l'anima cosciente sta di fronte all'anima cosciente. La domanda sorge invece spontanea, se si considera la pedagogia in modo più ampio. Questa domanda urge da decenni, ma gli uomini non hanno ancora il pensiero giusto per formularla in modo chiaro. E dove si trova una risposta a questa domanda? Cari amici, la risposta a questo interrogativo sta nel rendersi conto, in queste cose l'importante è infatti lo sviluppo della volontà e non una soluzione teorica, che quando il bambino passa dalla vita prima della nascita a quella terrena sente il bisogno di imitare tutto, per cui fino alla seconda dentizione il bambino è un grande imitatore. È la forza delimitazione che gli fa anche imparare a parlare. Questa forza è insita nel bambino, come lo è la circolazione del sangue, da quando fa il suo ingresso nell'esistenza terrena. Ma non possiamo dare al bambino un'educazione sempre più cosciente, trasmettendogli, a partire dalla nostra anima cosciente, la cosiddetta verità, cioè delle conoscenze in forma di verità. Nell'epoca appena caratterizzata si diceva, prima dei 18 anni un ragazzo non può in fondo capire niente, va perciò condotto alla conoscenza attraverso ciò che il maestro sa fare con l'arte e che ispira fiducia. Solo così vengono destate in lui le forze della conoscenza a partire dai 18-19 anni. Era così che si pensava, le forze conoscitive devono essere destate dall'interno. E per farlo, per far sì che il giovane sappia aspettare fino ai 18 anni, gli si mostrava ciò di cui si è capaci. Lo si educava alla sensazione di sperimentare provvisoriamente con l'insegnante quello che più tardi dovrà sapere. Fino ai 18-19 anni l'acquisizione del sapere era qualcosa di provvisorio, poiché prima di quell'età non si può sapere niente improprio. In realtà nessun insegnante può trasmettere una conoscenza a un ragazzo o a una ragazza se in loro non è prima maturata la convinzione che egli è capace di qualcosa. È semplicemente irresponsabile nei confronti dell'umanità voler fare da pedagogo senza aver prima suscitato nei giovani la convinzione di trovarsi di fronte a uno che sa fare qualcosa, che ha delle capacità. Prima di accostarsi all'aritmetica, come la si intendeva allora non era quella roba arida e astratta che è oggi, il ragazzo si era ben convinto che chi gli insegnava quella disciplina è capace di parlare e pensare, oltre a essere abile in fatto di eloquenza. Erano queste esperienze fatte col maestro a rendere disponibile il giovane a crescere appoggiandosi all'individuo più adulto. Se di un maestro si sa solo che è in possesso di un diploma, può succedere che già a dieci anni non si abbia più alcuna fiducia in lui e in ciò che dovrebbe insegnare. La questione, che era allora vitale per le persone, deve tornare ad esserlo. Ma dato che nell'ordinamento umano odierno sono le anime coscienti a fronteggiarsi, non può più essere risolta come prima, quando erano le anime affettive degli uomini a trovarsi l'una di fronte all'altra. Oggi la cosa va impostata in altro modo. Ovviamente non possiamo tornare al trivio e al quadrivio, anche se sarebbe pur sempre meglio di quello che c'è oggi. Dobbiamo tener conto delle condizioni odierne, non di quelle esteriori, ma di quelle insite nell'evoluzione dell'animo umano. Dobbiamo trovare, a modo nostro, il passaggio fra l'imitazione spontanea, che il bambino ha prima della seconda dentizione, e il periodo in cui si può comunicare il sapere, contando prima sulla fiducia, e solo in un secondo tempo sul giudizio personale. Si tratta di un periodo di transizione estremamente critico per i giovani d'oggi. Per questa fase di transizione va risolto l'enigma più importante, che riguarda le cose dalle quali dipende il futuro dell'evoluzione umana, oppure la sua in-evoluzione, se non addirittura il suo declino. Il problema è come devono comportarsi gli adulti con i giovani nel periodo fra gli anni in cui è presente l'imitazione e quelli in cui si può trasmettere effettivamente il sapere. Si tratta di una questione culturale di importanza fondamentale per il presente, e che cosa è stato in fondo il movimento giovanile, nella misura in cui va preso sul serio. Era la domanda, il desiderio di sapere, se gli adulti avessero una risposta per questo grosso quesito. E i giovani, rendendosi conto che questa risposta non può essere trovata nella scuola, hanno vagato per boschi e per campi, piuttosto che essere studenti, hanno preferito essere uccelli, uccelli migratori, per esempio aderendo al movimento dei Wanderfügel, gli uccelli migratori. Se si vuole risolvere questa grossa questione culturale, occorre dar peso alla vita, non fare delle teorie. Chi oggi osservi la vita si accorgerà che il periodo compreso fra l'età in cui l'uomo imita e quella in cui è capace di far sua la conoscenza in forma di verità, deve essere colmato in modo giusto se non si vuole che l'umanità si atrofizzi, se si vuole che all'uomo venga trasmesso ciò di cui ha bisogno per la mente, il cuore e la volontà. Tutto ciò va trasmesso sull'onda della bellezza dell'arte. Il settenario di grammatica, dialettica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia e musica era il prodotto artistico di un antico ordinamento culturale. Anche oggi abbiamo bisogno di qualcosa di artistico, che però in base alle nuove esigenze dell'anima cosciente non necessita di una specializzazione in sette arti liberali. Durante il periodo della scuola elementare, e anche molto dopo, tutto l'insegnamento deve essere infiammato e infuocato dall'elemento artistico. La bellezza deve regnare sovrana e far da interprete delle verità nell'età della scuola dell'obbligo e anche in seguito. Chi non è vissuto nell'elemento della bellezza, chi non si è conquistata la verità per mezzo suo, non potrà accogliere dentro di sé la pienezza dell'umano che lo prepari ad affrontare le sfide della vita. I classici tedeschi l'avevano presagito, pur senza sottolinearne la piena portata, ma han trovato orecchi sordi, non sono stati capiti. Guardate come in Goethe la ricerca della verità passa per la bellezza. Ascoltatelo quando dice che l'arte è una manifestazione di forze naturali segrete, il che non significa altro che la verità viva e raggiungibile soltanto per mezzo di una comprensione artistica del mondo, altrimenti si arriva solo alla verità morta. Pensate alla bella espressione di Schiller, è solo grazie all'aurora della bellezza che fa ingresso nella terra della conoscenza. Finché non si sarà compreso nel senso più profondo il significato di questa via che conduce alla verità, passando per l'arte, l'umanità sarà lontana dal capire davvero il mondo spirituale, come lo sa fare l'anima cosciente. Vedete, con l'aiuto della scienza oggi in auge è possibile conoscere solo il corpo fisico dell'uomo. Non si può conoscere altro che il corpo fisico. La scienza odierna non conosce altro che il corpo fisico dell'uomo. Per questo si parla in modo esatto e anche magnifico di fisiologia e biologia finché ci si attiene al corpo fisico. Certo, la gente parla anche di un po' di psicologia, che però conosce solo come psicologia sperimentale e per questo osserva i fenomeni che dovrebbero essere psichici, ma vengono visti solo in relazione al corpo fisico. Gli uomini non sanno farsi la minima idea dei fenomeni dell'anima in quanto tali, per questo hanno inventato il parallelismo psicofisico. Ma due parallele possono intersecarsi solo all'infinito. ragion per cui si saprà solo alla fine dei tempi, nell'eternità, qualcosa sul rapporto tra corpo fisico e anima. È così che sorge il dogma del parallelismo psicofisico. In tutto questo si esprime, a livello sintomatico, l'incapacità del nostro tempo di capire l'uomo. Se si vuol capire l'uomo, la prima cosa da fare è far sparire l'intellettualismo. L'uomo non può essere capito in modo intellettualistico. Ci si può pure arroccare sull'intellettualismo, se si vuole, ma allora bisogna rinunciare a conoscere l'uomo e strappargli di dentro l'animo, il che però è impossibile. E se anche non lo si strappa via, l'animo si inarivisce. La mente può rinunciare alla comprensione dell'uomo, ma l'animo diventa arido e sterile. Tutta la nostra cultura è un prodotto dell'animo inarivito. E, in secondo luogo, una comprensione dell'uomo non si può avere con i concetti adatti in modo grandioso alla conoscenza della natura. Anche se a livello esteriore i concetti della scienza ci consentono di raggiungere chissà quali cose, non ci portano neanche alla seconda componente dell'uomo, che è il corpo eterico, al corpo delle sue forze vitali e plasmanti. Immaginate che, grazie ai metodi della scienza odierna, l'uomo possa già disporre di tutte le conoscenze che avrà alla fine dei tempi, che sappia un'enormità di cose. Prendiamo uno scienziato perfetto, intelligentissimo. Non voglio negare che ci siano scienziati ormai poco distanti da questo livello, perché non credo che in futuro si faranno particolari progressi sulla via dell'intellettualismo. Si dovranno imboccare tutt'altre strade. Come vedete, ho massimo rispetto per l'intellettualismo della nostra cultura. Non crediate che dica quel che sto dicendo per mancanza di rispetto. Non va messo in dubbio che vi siano numerosi scienziati di grande intelligenza. Ma anche supponendo che questa scientificità abbia raggiunto la vetta più alta, essa permetterebbe di comprendere solo il corpo fisico dell'uomo e niente di quello eterico o vitale. Non intendo dire che la conoscenza del corpo eterico si basi su fantasticherie non scientifiche. Niente affatto, si tratta di una conoscenza oggettiva. Ma per prendere in considerazione questa, che è la parte in fondo più secondaria di ciò che è invisibile nell'uomo, bisogna passare per l'esperienza dell'arte. Bisogna che nell'anima scorra sangue d'artista. Più nella nostra scienza oggettiva si vuole evitare tutto ciò che è artistico e più si allontana l'uomo dalla conoscenza di se stesso. Tramite i microscopi e le altre apparecchiature abbiamo appreso un'enorme quantità di cose, ma questo non ci porta più vicini al corpo eterico dell'uomo, anzi ce ne allontana. Alla fine perdiamo di vista la strada che ci condurrebbe a ciò di cui abbiamo massimamente bisogno per comprendere l'uomo. Con le piante ce la possiamo ancora cavare, poiché esse non ci riguardano direttamente. Alla pianta non importa di non essere quel prodotto di laboratorio in base al quale si sente apostrofare dalle scienze naturali. Continua imperterrita a crescere, sotto l'influsso delle forze di vita diffuse in tutto il mondo. Si guarda bene dal limitarsi alle forze che la fisica e la chimica le riconoscono. Quando ci poniamo l'uno di fronte all'altro come esseri umani, le cose cambiano. Allora il nostro animo, la nostra fiducia, la nostra compassione, tutto ciò che vive in noi e che nell'era dell'anima cosciente trascende ovviamente il puro istinto, poiché l'anima cosciente porta tutto oltre l'istinto, allora tutto nell'uomo dipende dal suo ricevere un'educazione che gli faccia vedere qualcosa che non si limita semplicemente al corpo fisico dell'uomo. Se gli educatori non ci aiutano a farci un'idea di che cos'è l'uomo, non possiamo pretendere che nell'animo si sviluppino quelle forze che pongono l'uomo di fronte al suo simile nel modo giusto. Tutto dipende dalla capacità dell'uomo di liberarsi dal semplice osservare esteriore, dal puro sperimentare. Solo prendendo le dovute distanze dall'osservazione e dall'esperimento esterni potremo apprezzarli nel senso giusto. E la liberazione più semplice è quella che avviene attraverso l'arte. Sì, cari amici, se il maestro si porrà di nuovo di fronte al bambino, nello stesso modo in cui in un'epoca precedente si ponevano le ossequiate dame chiamate grammatica, dialettica e retorica nei confronti dei giovani. Vale a dire, se il maestro saprà di nuovo formare artisticamente la propria lezione, così che l'arte vi regne ovunque, allora potrà nascere un nuovo movimento giovanile. Il movimento giovanile di oggi può anche non piacervi, ma quello che sorgerà andrà in cerca degli insegnanti che sono veri artisti, poiché vorrà assimilare ciò che si aspetta da loro, ciò che è necessario che i giovani ricevano dagli adulti. In realtà il movimento giovanile non può essere una pura protesta, una mera ribellione a ciò che è vecchio. È qualcosa di simile al neonato, che se non potesse ricevere il latte della mamma non potrebbe fare neanche tutto il resto. Quello che va imparato va imparato, ma lo si imparerà solo se si sente un'attrattiva naturale verso gli adulti, proprio come il neonato che succhia il latte dal seno materno, come il bambino che apprende per imitazione. Questa attrattiva naturale si instaura solo se la generazione più anziana viene incontro ai giovani con l'arte, se la verità si manifesta dapprima nella bellezza. Allora nei giovani si accenderà la parte migliore, non l'intelletto, che è una facoltà passiva, ma la volontà che è attiva, e che attiva poi anche il pensiero. Un'educazione artistica educa la volontà, e dall'educazione della volontà dipende tutto il resto. Che dirvi, nelle parole davvero meravigliose, commoventi o i brividi, veniamo ora al commento e all'analisi. Questa conferenza di Rudolf Steiner, nel 1922, rappresenta senz'altro un punto di svolta nella riflessione pedagogica e filosofica dell'epoca. Steiner pone al centro della sua analisi il cambiamento radicale avvenuto nella natura dell'anima umana, evidenziando una transizione fondamentale dal predominio dell'anima razionale o affettiva, fino al XV secolo, all'emergere dell'anima cosciente, che caratterizza l'essere umano moderno. Questo passaggio riflette una trasformazione profonda nel modo in cui gli esseri umani si relazionano tra loro e con il mondo, con implicazioni significative per l'educazione. Il concetto di evoluzione dell'anima e il suo impatto sull'educazione. A questo proposito, Steiner identifica tre fasi principali nell'evoluzione dell'anima umana. La prima, l'anima sensibile o affettiva. Dominante fino al XV secolo, è caratterizzata da una connessione diretta e intuitiva con il mondo spirituale e naturale. La seconda, l'anima razionale, ma ancora affettiva, che rappresenta una fase di maggiore riflessione e introspezione, ma ancora profondamente connessa allo spirito. Infine, l'anima cosciente, che emerge nella modernità ed è caratterizzata da una intellettualizzazione crescente e da una separazione tra il pensiero e l'esperienza spirituale diretta. Questa evoluzione, secondo Steiner, non costituisce solo un fatto storico, bensì un processo vivo che continua a influenzare l'umanità. In ambito pedagogico, ciò implica che il metodo educativo non può più essere quello del passato, poiché l'anima cosciente richiede un approccio diverso, più consapevole e mirato. Vediamo in che senso. L'educazione come arte, un ritorno necessario. Ancora una volta, e in ottima compagnia si pensi tra gli altri allo spiritualista francese Henri Bergson e più tardi allo psicologo-analista Carl Gustav Jung, Steiner critica l'intellettualismo freddo e distaccato che ha preso piede con l'emergere dell'anima cosciente. Una visione, quella di Steiner, assolutamente lungimirante. Se si pensa che il modello scolastico anglo-globalista ad orientamento neoliberista, OGD, ha spinto l'algidità e l'esclusività dogmatica dell'intellettualismo basato sul codice binario, sino a proporre classi a guida AI, acronimo di intelligenza artificiale, salvo poi ammorbare l'opinione pubblica con le solite ridicole e lamentose pioggelline estive sul disagio emotivo degli studenti, sulla necessità di maggiore empatia, di orientamento, di sostegno psicologico a beneficio delle tecnocaste dei pedagogisti e psicologisti di regime. Come dire, il sistema crea deliberatamente le condizioni a che l'ambiente educativo sia ad elevata tossicità emotiva e cognitiva precariato diffuso e istituzionalizzato, percorsi di accesso alla professione docente tortuosi a pagamento, stipendi irrisori, classi pollaio, strutture obsolete o cadenti, eccetera, per poi attivare e alimentare all'atere e più che altro a beneficio della propaganda funzioni di rimedio e sostegno agli intossicati. Un sistema simile, se si pensa a quello di talune industrie farmaceutiche che propongono farmaci miracolosi per danarosi dissociati, i quali a fronte di uno stile di vita colmo di spazzature consumistiche e di una dieta ipercalorica, su indicazione della propaganda e di fantomatici studi innovativi in cui l'acqua calda viene spacciata per acqua miracolosa, si imbottiscono di farmaci e parafarmaci contro il colesterolo e altri guai che colpiscono il miliardo d'oro o l'ex miliardo d'oro di questi tempi. Steiner, dal canto suo, in maniera quasi profetica, vede nell'educazione artistica e nell'arte dell'educazione un mezzo per recuperare un rapporto più armonioso e vivo tra l'essere umano e il mondo. L'essere umano è l'essere umano, l'essere umano è il mondo. Secondo Steiner, l'educazione dovrebbe essere un'arte che risveglia la bellezza e la creatività nell'anima del giovane, preparandolo non solo a comprendere il mondo, ma a parteciparvi attivamente e in modo significativo, da essere umano integrale, libero di dare espressione alla sua interiorità, a quello che lo psicanalista statunitense James Hillman, nel suo Codice dell'anima, ha definito daimon, il carattere destino, riprendendo un antico concetto ellenico. In questo contesto Steiner propone di tornare ai principi che guidavano l'educazione nell'epoca in cui l'anima affettiva era dominante. Allora l'insegnamento non era finalizzato alla trasmissione di conoscenze puramente intellettuali, ma piuttosto, in primo luogo, alla formazione di un legame di fiducia e di empatia tra maestro, in carne d'ossa, vivo, e allievo. Anche attraverso percorsi di vita in comune, questo legame si basava sull'arte del maestro di mostrare ciò di cui era capace, non solo nel pensiero astratto, a lezione fino al suono della campanella, diremmo noi oggi, ma nel modo concreto di vivere e sentire. Questo approccio creava un ambiente comunitario in cui il giovane poteva sviluppare la propria capacità di giudizio, in modo naturale e graduale, e non nella realtà aumentata o nelle aule laboratorio piene di monitor. Ecco, il ruolo cruciale dell'arte nella pedagogia. L'arte, per Steiner, dunque, non è solo un mezzo di espressione, ma una via attraverso cui si può giungere a una comprensione più profonda della verità. La bellezza, come mediatore tra il sensibile e lo spirituale, diventa un elemento essenziale per formare individui capaci di una vera comprensione del mondo, capaci di stare al mondo come esseri umani integrali. La bellezza, dunque, salverà il mondo. Questa visione è in linea con i pensieri di Schiller e Goethe, che non sono esattamente gli ultimi due scappati di casa, che consideravano l'arte come un ponte necessario verso la conoscenza e la verità. Ma, andando più indietro nel tempo, essa deriva, in ultima istanza, dalla concezione platonica, ripresa successivamente dal neoplatonismo di Plotino, in cui il bene, principio summo, è per suonatura bello, idea pura di bellezza, verso la quale il demon Eros spinge le anime nobili lungo un sentiero di ascesa conoscitiva e spirituale. Intesa in questa maniera, l'arte è conoscenza, la bellezza è verità. Peraltro Platone diffida delle arti imitative, quelle che si limitano a riprodurre gli oggetti sensibili, ma di questo parleremo in un altro luogo. L'educazione deve quindi essere infusa di elementi artistici in ogni sua fase, anzi l'educazione è un'arte, questo è il punto fondamentale, non solo per coltivare la sensibilità estetica, ma per sviluppare un rapporto armonioso tra corpo, anima e spirito, a livello individuale e interpersonale. Armonia e bellezza sono contagiose, nelle nostre scuole dovrebbero virtuosamente sostituire la diffusione virale di ansia da prestazione e depressione da fallimento. Solo attraverso un'educazione che metta al centro la bellezza è possibile formare individui che non siano solo intellettualmente competenti, ma anche moralmente e spiritualmente completi. Dire intellettualmente competenti, beninteso, significa spesso fare riferimento ad una preparazione intellettuale strutturata in termini binari e a compartimenti stagni, finalizzata cioè a servire all'interno di un sistema che richiede competenze tecnico-scientifiche specifiche, ma ritiene superflue, se non deleterie competenze critiche in senso artistico, etico, politico, filosofico e propriamente scientifico, se parliamo di libera ricerca non asservita alle logiche di profitto illimitato e disumanizzante di talune multinazionali. La scienza deve essere libera e deve mirare al vero e al bello, altrimenti non è scienza. La scienza subordinata al denaro non è scienza, la sfida dell'educazione moderna. Steiner riconosce che non possiamo semplicemente tornare ai modelli educativi del passato, ma dobbiamo reinterpretarli alla luce delle nuove esigenze dell'anima cosciente. Questo richiede un ripensamento radicale dei metodi educativi, in cui l'elemento artistico e poi etico non è relegato ad una parte marginale del curriculum, ma diventa il cuore pulsante dell'intero processo formativo. L'obiettivo ultimo di questa pedagogia è quello di preparare i giovani non solo ad affrontare il mondo moderno, ma a trasformarlo, riportando l'umanità a un equilibrio tra conoscenza, sentimento e volontà. In altre parole, l'educazione deve diventare un processo creativo che renda gli esseri umani capaci di vivere in modo artistico, non solo nelle arti tradizionali, ma in ogni aspetto della loro vita, a cominciare dai valori. Occorre in altre parole, per dirla con Nice, sviluppare quelle capacità che consentano di creare nuove tavole di valori, trasvalutando le antiche, verso forme di umanità più spiritualmente ricche e derivate. Inutile sottolineare che un'impostazione del genere rivoluzionerebbe dalle fondamenta il nostro modo di fare scuola e la società tutta. Il problema fondamentale è che la scuola pubblica – su quella privata, inutile soffermarci per carità – dipende in gran parte dalla politica e la politica nazionale a sua volta è emanazione ritinteggiata e corrotta delle linee generali stabilite da decisori internazionali che, come ben sappiamo, hanno ben altre finalità e priorità rispetto alla promozione dell'umano in sé. Il compito che possiamo assumerci a scuola, dal nostro piccolo o piccolissimo, è quello di tenere testa questa consapevolezza, tenere alta questa bandiera, ossia di tenere accesa la fiammella dell'umano e del libero pensiero per coloro che verranno. In conclusione, la conferenza di Steiner ci invita a riflettere su come l'educazione debba evolvere per rispondere alle esigenze dell'anima cosciente dell'uomo moderno. L'intellettualismo e l'oggettivismo binario, con le sue estensioni tecnocratiche che caratterizzano l'educazione contemporanea, rischiano di disumanizzare gli studenti, privandoli di un'esperienza formativa completa. E vedete che i termini intellettualismo o scientismo hanno una radice positiva, scienza e intelletto, indubbiamente, ma che diventa negativa nella misura in cui si trasforma in ideologia. E l'ideologismo vuol dire una visione, come dire, dogmatica, unilaterale, quindi un utilizzo dogmatico unilaterale di quel tipo di approccio. La soluzione proposta da Steiner è un ritorno all'arte, intesa in senso lato, come mezzo di educazione, non solo per coltivare la bellezza, ma per risvegliare una comprensione profonda e integrata della verità. Solo così potremo formare individui veramente liberi e completi, capaci di affrontare le sfide del futuro, con saggezza e creatività. Come si suol dire, spes ultima dea est, la speranza è l'ultima risorsa. Un saluto cordiale a tutti, colleghi e studenti, e buon anno scolastico.